quando spinge vedi cosa fa si chiude così no ma là c'è l'osticina hai visto nella tua tua c'è l'osticina si ma quando stringe invece non va bene va piegato qua adesso ieri me l'ho fatto lui fighi qua così quando vieni si apre e così si deve ne hai capito? guarda la pucchiacca di tua sorella è un culo di mia sorella si ma cosa vuoi dire? voglio trovare un po' di culo negro minchia impossibile 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 vuoi che te lo montino un attimo cinque minuti ci metto no ma che cinque minuti massimo qua c'è da smontare scordi lei ormai le conosco a memoria non ho so non ho so quindi non va compato io vai a sala di classico vediamo se c'è un 750 e noi vediamo questo no ma si manca di qua se questo è un classico può quanto vuole? 7 minuti? se ne va nel classico? 7 anni? ci manca la classica è un pochettino passata è bello ma a me piace il nevato il tazzo compri 7,50 non ti fai del padre non ti fai del padre ma mi piace il pantalone non ce ne hanno piacere min che bello il pantalone che ce l'hai mi piace vuoi vedere quello che c'è sotto cosa devi fare senza tretta non ti dà a casa un po' il mio negozio guardati guarda 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 bravo stai giam Grazie.